Non cominciare che devo dire messa io, perché sennò quando parlo poi in francese, in tedesco, in tedesco sono parole. Stai firmando? Sì. Sì. Allora senza ubriacarci, però a Monica e a Mauro auguriamo ogni bene, ogni gioia, ogni felicità. Il Signore vi protegga sempre, vi aiuti e possate essere felici e gioiosi come in questo momento. E io mi unisco alla vostra felicità e alla vostra gioia. Salute. Salute. Cin cin.